Patrizio Mecacci, segretario metropolitano del PD, Un'altra Europa è l'iniziativa organizzata dal PD della Toscana insieme ai giovani democratici della Toscana e al gruppo dei socialisti democratici all'Europarlamento. L'iniziativa si tiene a Firenze, domanda d'obbligo, che contributo può dare Firenze alla costruzione di una vera Europa? Firenze ha dato storicamente un contributo alla costruzione di un'altra Europa. Io ho iniziato a fare politica al social forum europeo, quindi la parola Europa evoca in me qualcosa di profondo. Firenze è stata la sede del vertice della terza via, quello che ha visto a metà degli anni 90 riuniti i leader delle democrazie occidentali. Dobbiamo ripartire da lì per prendere ciò che c'era di buono e per superare i limiti della stagione. In questi giorni il Presidente della Regione ha fatto una proposta, che è quella di distribuire un centro per gli studi sull'umanesimo e il rinascimento a Firenze, di rilanciare questa prospettiva culturale. Io credo ci serva, se lo colleghiamo alla dimensione europea e a basi culturali e politiche nuove, a partire da quello che Firenze ha rappresentato e può rappresentare per la storia dell'intero pianeta.